Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione, dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche. I tifosi brindisini ricorderanno a lungo questo 29 dicembre. Ancora una volta all'Enel Basket Brindisi ha battuto il campione d'Italia della Montepaschi Siena. È finita 71 a 67 nel posticipo trasmesso in diretta da Rai Sport. È in testa alla classifica una situazione assolutamente imprevedibile. Cinque squadre a quota 18 e fra queste c'è la formazione di coach Piero Bucchi. Una serata indimenticabile per il basket brindisino che dunque torna in vetta alla classifica del massimo campionato. Vi raccontiamo tutto in questa puntata di Terzo Tempo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Canestro. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti.